La Juve è fede, amore e passione. Seguila con la Juventus Club Lizzano Bianconera. Vieni a vedere con noi a Torino Juventus Valencia. Champions League, quinta giornata della fase a Gironi. Martedì 27 novembre ore 21. Viaggio di andata e ritorno più biglietto stadio. Per informazioni, Juventus Club Lizzano Bianconera, piazza Matteotti 22 Lizzano. Per contatti telefonici, Antonio 348 80 8 8 8 0 3. Cristian 349 68 000 66. Giuseppe 347 04 17 623. E sempre, posso aiuto! Fino alla fine.